Buongiorno a tutti e benvenuti al primo dei webinar previsti per l'anno scolastico 23-24 nell'ambito del nuovo progetto Diario dell'Agenda 2030, l'iniziativa che l'Osservatorio Permanente Giovani Editori ha scelto di promuovere insieme a Banco BPM per le classi che partecipano al progetto del quotidiano in classe nelle province di Milano, Bari e Verona. Come sapete già, lo scopo di questa nuova iniziativa è quello di far riflettere le classi attorno agli obiettivi dell'Agenda 2030. L'obiettivo finale è quello di stimolare l'interesse e ampliare quindi la sensibilità di voi ragazzi rispetto all'impegno per il bene della nostra comunità. Ed oggi lo faremo insieme al professor Marco Tortora, fondatore e presidente di Fieri Italy, e Luca Mazzini, responsabile della Direzione Territoriale Centro-Sud di Banco BPM. In particolar modo, di cosa parleremo oggi? Parleremo di due degli obiettivi dell'Agenda 2030 che sono stati presi in esame anche dai materiali didattici che avete ricevuto grazie ai vostri insegnanti, ovvero assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età e poi fornire un'educazione di qualità che sia equa ed inclusiva e l'opportunità di apprendimento per tutti. A questo punto io non vi vorrei rubare altro tempo e lascio la parola al professor Marco Tortora per una breve presentazione dell'iniziativa e per entrare nel vivo della conversazione e della lezione di oggi. Quindi buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, buongiorno Vania, grazie mille per questa opportunità, mi fa molto piacere essere qui con tutti voi. Adesso vado a condividere il mio schermo, così possiamo cominciare e vedere nel dettaglio, in questa prima parte, rifatto il programma dell'iniziativa. Aspettate che cerco di metterlo ovviamente in... Ecco, adesso lo vedete meglio. Devo zoom davanti a tutta la dashboard di Edge. Eccoci qua, benvenuti. Come ha detto Dabagna andiamo a parlare di due obiettivi, l'obiettivo numero tre e l'obiettivo numero quattro. Prima di fare questo e soprattutto di farlo, ed è un piacere, saluto anche il dottor Mazzini, veramente due parole in merito a quello che ho detto, che è il programma e quindi le cose che insomma voi dovrete andare a fare con i vostri insegnanti. Come ha detto Vania, il titolo è il diario dell'agenda 20-30 e quindi gli obiettivi sono chiaramente 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile. Però come vedremo a voi sarà chiesto di concentrare l'attenzione soprattutto su alcuni di essi. L'obiettivo generale è chiaramente quello di aiutarvi a comprendere che cosa sono questi obiettivi e perché dobbiamo sempre più dare, rivolgere il nostro interesse e in che modo rivolgere l'interesse verso questi obiettivi. Come vedete, a seconda di dove sarete in questo momento collegati, sarete in tanti di diverse città italiane e per voi sono state, come diceva Vania, predisposti dei materiali didattici. Esattamente sei schede didattiche, lo vedremo, che fanno riferimento ai sei dei 17 obiettivi che voi dovrete andare ad approfondire. L'incontro che facciamo oggi, così come i prossimi incontri, e vedremo adesso anche le date, servono a dare un'indicazione, da un lato per quanto riguarda la modalità del lavoro che vi sarà richiesto e dall'altro chiaramente di cominciare ad approfondire grazie anche al supporto e all'intervento dei relatori di Banco BPM, come dicevo, a partire oggi con il dottor Mazzini. Per quanto riguarda il regolamento, quindi le cose da fare e gli strumenti che dovrete utilizzare, abbiamo detto che sono sei schede didattiche che potete scaricare online. Queste sei schede didattiche, ciascuna scheda fa riferimento a uno dei sei obiettivi che sono stati scelti per questo progetto per quest'anno e ogni incontro che avremo a partire da oggi si concentrerà su due dei sei obiettivi. Quindi parleremo oggi dei primi due obiettivi che, vi è stato detto, saranno gli obiettivi numero 3 e 4 dell'agenda 2030. Che cosa bisogna fare? Entriamo nello specifico. Beh, fondamentalmente le schede didattiche, studiare le schede didattiche, dove studiare non prendetelo come l'ennesimo comandamento tra l'altro, in questo caso leggere le schede didattiche in realtà in maniera approfondita con la guida dell'insegnante, discutere con gli insegnanti ciascuno dei sei obiettivi, li vedremo, ciascun obiettivo fa riferimento a dei target, fa riferimento a degli indicatori, quindi sono molto densi dal punto di vista, diciamo, sia dell'informazione che anche della conoscenza che richiedono. Quindi è bene studiare, quindi leggere molto attentamente queste schede, rifarlo con gli insegnanti, quindi rifarlo in classe, e poi chiaramente sulla base di alcuni spunti che emergeranno anche dalla discussione, ma non solo, redigere quello che è poi il titolo dell'iniziativa, il diario dell'agenda 2030. Che cosa significa redigere fondamentalmente un diario? Beh, lo sapete, lo potrete chiaramente immaginare, però non si tratta solo di riportare all'interno di un diario, in quale forma esso sia, cartacea, piuttosto logica e digitale, quanto emerso dalla discussione in classe, ma piuttosto cercare di guidare questa discussione in modo che voi siate principalmente gli attori protagonisti di questo progetto, che significa da un lato attenti osservatori, quindi attenti anche, diciamo, studiosi poi di ciascuno dei singoli obiettivi, ma anche protagonisti nel senso di andare a cercare effettivamente che cosa significa calare un obiettivo, in questo caso che fa parte di un'agenda delle Nazioni Unite, all'interno della propria comunità, sul proprio territorio. In particolar modo voi dovete cercare di capire come quell'obiettivo viene di fatto calato nella vostra realtà quotidiana, quindi si può partire dall'Italia fino ad arrivare veramente al quartiere, piuttosto che alla propria associazione sportiva e anche alla stessa scuola, pensare ad almeno due attività che sono state magari sviluppate per raggiungere quell'obiettivo, da altri, da terzi chiaramente, oppure anche da voi se siete stati coinvolti in attività particolari, e però poi alla fine selezionare almeno un'attività che è stata davvero fatta, che è veramente in corso e che sta contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi ripeto, ci saranno sei schede didattiche, ciascuna scheda didattica fa riferimento a uno degli obiettivi dei 17 che entrano approfonditi, l'approfondimento consiste nel chiaramente leggere in maniera attenta e approfondita la scheda, discutere con l'insegnante ciascuna scheda e quindi ciascuno degli obiettivi, cercarlo di riportare questo obiettivo alla realtà concreta, quotidiana, a partire dalla scuola, alle attività sportive, alla comunità che si frequenta, osservare effettivamente che cosa si sta facendo per il raggiungimento di quell'obiettivo a livello locale e poi riportare a quel diario un'attività che effettivamente è stata fatta o è in corso di essere e che cerca in maniera chiaramente positiva di contribuire al raggiungimento di uno degli obiettivi. Questo è quello che quindi entra fatto nell'arco di queste e delle prossime settimane. Chiaramente non sarete soli, ci saranno i vostri insegnanti, ci sarà tutta una serie di materiali che potranno essere chiaramente scaricati dal sito dell'osservatorio, vi intanto anticipo e vi suggerisco anche di visitare il sito chiaramente della banca, così come di utilizzare i quotidiani che già utilizzerete. Ma non solo, avrete anche la possibilità di rivedere i video, in particolare questo è il primo appuntamento con il dottor Mazzini che va immediatamente a presentare, i prossimi, poi lo rivedremo anche in fondo, che saranno sempre di martedì, il 19 marzo e il 16 aprile con altri rappresentanti di Banco BPM. Spero sia tutto chiaro, resto comunque a disposizione per chiaramente per quanto riguarda il programma e quindi anche delle domande in chat e lascerei la parola in questo caso al dottor Luca Mazzini per introdurci all'attività della banca. Prego. Grazie professor Tortora, grazie della presentazione, grazie anche all'osservatorio Giovani Editori. Buongiorno a tutti coloro i quali sono collegati da Milano, da Verona e da Bari. Per me è veramente un onore e un orgoglio poter partecipare a questa iniziativa per Banco BPM è veramente un momento importante per condividere dei temi che sono i temi non solo di oggi ma sono soprattutto i temi del futuro. Io mi presento, sono Luca Mazzini, sono responsabile della direzione territoriale centro-sud di Banco BPM, quindi in questo momento vi sto parlando da Roma perché la mia direzione territoriale segue dal Lazio fino alla Sicilia con presenze importanti in Campania e in Buggia. Banco BPM è una banca che opera a livello nazionale ma è molto radicata sui territori di provenienza. So che ci sono le scuole appunto di Verona e di Milano, noi in Veneto siamo presenti con il marchio Banca Popolare di Verona piuttosto che a Milano con il marchio Banco Popolare di Milano. Quindi siamo una banca a livello nazionale ma che ha nella storia del rapporto con i territori, diciamo, i propri fondamenti. Siamo chiamati a parlare dell'agenda 2030 dell'ONU oggi e in particolare di concentrarci su quelli che sono gli ambiti di attività sociale che la nostra banca svolge quotidianamente. Noi abbiamo un'attenzione alle tematiche ISG che ormai proviene dall'antano, dalla nostra storia, dal 2017 che affianchiamo al bilancio ordinario, quello che presentiamo al mercato anche un bilancio di sostenibilità dove andiamo a indicare tutta la nostra attività nei confronti delle tematiche ISG quindi di sostenibilità ambientale ma anche nell'ambito sociale e quello di governance. Provo a condividere con voi una presentazione che abbiamo messo a disposizione per essere un po' più chiari nell'ambito vediamo se riusciamo non so se riuscite a vederla ancora no Luca grazie a tutti riuscite a vederla? ancora no vediamo lo schermo ora? neanche ancora vediamo un po' allora io la vedevo ma non riesco probabilmente a proiettarla posso provare a condividerla io eventualmente? sì ok allora un attimo ok dovreste vederla giusto? ok io la vedo la vedi vero? bene benissimo niente allora iniziamo prego ok perfetto grazie da parte della regia vedete la prima la prima tavola riguarda l'esemplificazione dei 17 obiettivi dei 17 obiettivi dell'agenda 20-30 dell'ONU noi ci concentreremo sull'obiettivo 3 e l'obiettivo 4 quindi salute e benessere istruzione di qualità in parte prenderemo anche l'obiettivo 17 perché di fatto gli obiettivi 3 e 4 si raggiungono in partnership con tutta una serie di istituzioni e di partner che ci permettono di andare a raggiungere gli altri due obiettivi noi crediamo che la S del 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 tematiche ESG quindi il sociale sia assolutamente fondamentale eh per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e in particolare il supporto alle persone e alla comunità debba rappresentare un valore estremamente importante per internei nostri interventi nell'ambito del del delle attività di carattere sostenibile come lo facciamo lo facciamo in Banco BPM e lo vediamo magari dall'altra slide eh se la regia mi aiuta ecco ecco tutta una serie di iniziative che abbiamo voluto chiamare Progetto Orizzonte proprio per avere quello sguardo verso il futuro piuttosto che verso al presente no? e eh in particolare le nostre attività negli ambiti sociali riguardano Progetto Scuole Banco BPM ha avviato un progetto dal 2018 con un aiuto concreto alle scuole sul territorio e alle istituzioni con corsi di educazione finanziaria proprio per promuovere la cultura economica e finanziaria tra tra i più giovani eh anche lì in partnership con istituzioni e scuole eh una tutta una serie di incontri e seminari rivolte alle imprese su approfondimenti eh relativi alle tematiche IRG e poi eh abbiamo deciso ormai da tempo di dedicare le nostre sponsorizzazioni oltre a quelle classiche di carattere culturale e sportivo ma soprattutto quelle che riguardassero temi sociali sul territorio proprio perché eh sentiamo la necessità che la banca possa creare valore nei propri territori di eh provenienza infine le liberalità eh noi siamo strutturati in otto direzioni territoriali ogni direzione territoriale ha una fondazione e un comitato che sceglie, analizza tutta una serie di progetti che eh ci pervengono da eh ONLUS associazione di volontariato eh a cui dedichiamo dei budget proprio per dare un aiuto concreto e sostenere le iniziative e i progetti sociali di queste di queste associazioni infine un aspetto molto molto importante riguarda il volontariato noi abbiamo un'attività che si chiama Volontariamo in cui facciamo vero e proprio volontariato di impresa eh andiamo a coinvolgere colleghe e colleghi che eh in maniera volontaria si attivano sul territorio per fare iniziative che riguardino o l'ambiente e quindi eh ad esempio la 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 pulizia nei parchi, sulle spiagge piuttosto che eh il sostegno alle persone più indigenti con volontariato nelle emense e e a sostegno del dei più deboli eh allora iniziamo dal goal eh relativo alla istituzione di qualità quindi al goal numero quattro dell'agenda venti trenta dell'ONU eh abbiamo appunto un progetto che abbiamo portato avanti dal duemiladiciotto che si chiama progetto scuole eh che si tratta di un aiuto concreto eh con un budget dedicato in particolare eh alle scuole pubbliche e infatti vediamo successivamente un po' come si delinea eh il progetto nelle sue eh linee guida eh nella tavola successiva eh con ecco se potete girare la tavola grazie perfetto quello precedente la numero cinque ecco qua abbiamo scelto prevalentemente scuole pubbliche eh andiamo a selezionare i progetti che riteniamo importanti per la comunità eh e eh una volta selezionati i progetti andiamo ad apportare un contributo un apporto economico eh o direttamente mettendo a disposizione un budget o tramite la raccolta fondi tramite eh i nostri partner e i nostri contatti sul territorio o tramite i canali di comunicazione. Eh inoltre eh vediamo un po' i numeri del progetto scuole quindi che cosa eh è stato fatto dal duemiladiciotto ad oggi sono stati coinvolti ben centoventi comuni eh abbiamo erogato a progetti appunto come dicevo prima selezionati eh per il finanziamento sulle scuole pubbliche un milione e mezzo di euro e abbiamo dato risonanza sulla stampa in oltre duecentocinquanta articoli o eh informative sui media locali vedete come eh abbiamo voluto dare risalto alle nostre iniziative nelle vari territori eh qui ci sono qualche esempio no di iniziativa fatta a Imola piuttosto che a Verona eh dove abbiamo sostenuto la eh la la ristrutturazione di alcune scuole eh in funzione di calamità naturali che sono avvenute piuttosto che in Puglia affoggiamo lo facciamo anche a Bari eh per i ragazzi che sono collegati da Bari abbiamo fatto diverse iniziative a scuole anche che sono eh in quella città. Eh ancora eh qui invece siamo di nuovo torniamo al gol tre quindi al salute e e benessere dal gol quattro eh la nostra attenzione anche a eh sostenere progetti che riguardino la salute collettiva e il benessere della persona. In particolare una delle nostre partnership più importanti è la collaborazione con AIRC quindi con l'associazione italiana ricerca sul cancro noi siamo partner istituzionali di AIRC è una collaborazione che è iniziata nel duemiladiciannove ma che ha già stata rinnovata per altri eh cinque anni e cosa facciamo poi in AIRC? Con AIRC eh collaboriamo con loro per la raccolta fondi eh promuoviamo eh la divulgazione scientifica insieme a loro eh per eh promuovere appunto la eh corretta informazione sulla prevenzione e la diagnosi e la cura del cancro. Insieme ad AIRC abbiamo raccolto oltre cinque milioni di euro eh distribuiamo i famosi cioccolatini della ricerca nelle nostre filiali e organizziamo insieme ad AIRC eh tutta una serie di eventi sul territorio come charity dinner, spettacoli teatrali, concerti e eh incontri per promuovere la ricerca. eh perché lo facciamo? Qual è il valore di questa partnership no? Eh sicuramente perché ha un impatto sulla salute del benessere quindi ritorniamo al al goal dell'agenda venti trenta perché eh è necessario per investire sul futuro del nostro paese e poi perché eh da un impatto concreto e misurabile su quello che può essere fatto sulla società. Il professor Tortora vi ha un po' detto che eh poi alla fine questi eh obiettivi dell'agenda venti trenta eh sono sembrano molto alti ma poi non lo sono perché concretamente con piccoli progetti, con piccole attività quotidiane ognuno di noi può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Eh piccoli progetti, piccoli gesti, piccoli comportamenti portano poi a un risultato estremamente sommati insieme portano un risultato estremamente importante. Noi nel nostro nella nella nostra modalità eh agiamo anche a supporto appunto abbiamo detto di una serie di progetti faccio solo alcuni esempi proprio per la dare concretezza a queste nostre attività l'acquisto di attrazzature mediche ad esempio a favore di ospedali o associazioni il sostegno dei progetti di ricerca di di ricerca a favore di ospedali università e anche qui fondazioni per la ricerca piuttosto che erogare borse di studio agli studenti meritevoli e eh anche a ehm a che hanno come finalità quello di accompagnare eh e di ehm ridurre quello che è il gap eh di genere quindi eh tutta una serie di borse di studio ad esempio a sostenere ehm gli indirizzi delle materie STEM per eh le studentesse eh questo è un altro tipo di eh iniziativa che riguarda appunto la parte del 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 sociale che ha un impatto sociale eh significativo. Quindi la nostra attività riguarda eh un po' tutti questi eh tutti questi impegni in particolare eh sulla salute e benessere e eh la l'istruzione di qualità eh le attività che avete visto sono quelle che eh caratterizzano eh a livello territoriale l'attività di Banco BPM. Se poi più in particolare avete curiosità o domande da pormi successivamente per volentieri proprio per cercare di darvi un elemento di come si trasformi in termini concreto a questa attività della banca sul territorio per la realizzazione degli obiettivi sostenibili sono a vostra disposizione. Grazie. 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 Grazie dottor Mazzini per questa per questa introduzione. Adesso vado io a condividere invece lo schermo per riprendere quanto è stato detto dal dottor Mazzini e per approfondirlo. Ecco vedete sicuramente lo schermo eh quindi l'obiettivo è lo sviluppo sostenibile eh abbiamo detto andremo adesso ad approfondire due obiettivi di oggi l'obiettivo numero tre l'obiettivo numero quattro che già sono stati ben presentati dal dottor Mazzini soprattutto attraverso casi concreti perché normalmente mi eh anch'io riallaccio a quanto è stato appena detto la cosa importante ed è la differenza della nuova agenda dello sviluppo sostenibile che qui vediamo in tutti e suoi diciassette obiettivi è proprio quello di aiutare chiunque e adesso specifico per chiunque cosa eh che cosa intendo per chiunque a eh contribuire al raggiungimento di questi obiettivi che ricordiamoci devono essere raggiunti entro il duemila trenta quindi in realtà tra pochissimo tempo eh ma a che punto siamo e di che cosa stiamo parlando? L'agenda venti e trenta e l'agenda dello sviluppo sostenibile sono fanno riferimento a un a un preciso a una precisa definizione di crescita economica e quindi di sviluppo sostenibile che come vedete da questa semplice mappa fu introdotta tanti anni fa del milenovecento ottantasette io vi chiedo eh solo la cortesia chiaramente nel tempo sono avvenuti tanti fatti e tanti accadimenti che hanno in parte modificato, cambiato, accelerato diciamo il percorso verso lo sviluppo sostenibile però se dobbiamo ricordarci due dati ricordiamoci il milenovecento ottantasette e il duemilaquindice che è l'anno in cui la nuova agenda dello sviluppo sostenibile è stata introdotta a livello internazionale a livello delle nazioni unite eh e l'altra data è il milenovecento ottantasette questo è il famoso rapporto Bruntland che fu eh introdotto nel milenovecento ottantasette che dava diciamo la definizione ricordava la definizione che qui avete in inglese sulla vostra sinistra come obiettivo sostenibile come quella quello sviluppo eh che di fatto permette alle generazioni presenti di soddisfare i propri bisogni senza però per questo ledere eh quindi andare a impattare in maniera negativa eh i bisogni delle generazioni future dove generazioni future non sono solo le persone più anziane ma sono anche le persone che arriveranno in futuro quindi una una tensione diciamo in primis chiaramente alla persona umana ma anche al contesto nella quale la persona umana vive in particolare l'ambiente il capitale naturale quindi un'attenzione a preservare a conservare se non a migliorare questo questo capitale questa è la definizione che poi nel tempo chiaramente ha avuto tante eh ulteriori eh diciamo eh approfondimenti eh piuttosto che che riflessioni piuttosto che analisi eh ma come dicevo la cosa importante da ricordarsi dopo il milenovecento ottantasette l'altra data il duemilaquindice che cosa è accaduto nel duemilaquindice beh eh il duemilaquindice in realtà è una un un evento che ha seguito un precedente evento e cioè sempre a livello delle Nazioni Unite diciamo il mondo eh i governi del mondo si dettero come obiettivo di raggiungere eh alcune eh di migliorare alcune aree eh connesse al principio del sviluppo sostenibile e anche qui di darsi degli obiettivi gli obiettivi del millennio questi erano otto e dovevano essere raggiunti appunto entro una una certa data eh alcuni sicuramente sono stati dei miglioramenti nel tempo ma nel duemilaquindice si è come dire rilanciata la scommessa e eh nuovamente i governi a livello delle Nazioni Unite hanno introdotto la nuova agenda con gli stessi e ulteriori obiettivi. La grande differenza che dobbiamo ricordarci è che mentre i primi obiettivi furono rivolti principalmente introdotti per aiutare i paesi in via di sviluppo in una crescita economica che fosse equa inclusiva in questo caso i diciassette obiettivi dello sviluppo sostenibile riguardano tutti noi non importa se eh si abiti in o negli Stati Uniti o in Europa piuttosto che in Asia o in Africa tutti possono e devono contribuire sulla base delle loro risorse delle possibilità al raggiungimento di uno o più degli obiettivi e questo non riguarda più solo i governi ma riguarda lo abbiamo appena sentito anche organizzazioni private come possono essere imprese banche ma anche tutto il terzo settore e quindi le associazioni eh le fondazioni ma anche semplice citavo prima società sportive anche delle tantistiche quindi chiunque a ciascun livello può contribuire al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile quindi la vera domanda è come e come si può chiaramente poi comunicare quello che si sta facendo un po' lo avete già visto un po' proveremo adesso a a dettagliarlo meglio quindi dei diciassette obiettivi a cui fanno riferimento dei target chiamiamoli sotto obiettivi e quindi per ogni obiettivo ci sono ulteriori realtà obiettivi eh che che dovrebbero essere raggiunti entro il 2030 che servono di fatto a essere una sorta di guida eh del del percorso che si dovrebbe andare a fare a nessuno è richiesto chiaramente di poter concentrare l'attività dei propri sforzi su tutti gli obiettivi e tutti i sotto obiettivi è impossibile ma a seconda di quel che si è e che si fa e dove si opera sulla base delle risorse che ognuno ha in questo caso ognuno non è solo una singola persona ma anche un'organizzazione chiaramente eh definire degli obiettivi individuare delle buone pratiche sviluppare dei programmi e dei progetti e quindi dare abito ad azioni che verranno chiaramente dei contatti riportate secondo alcuni indicatori eh ci sarà una slide in cui dirò diciamo un farò una breve nota soprattutto per gli insegnanti ma anche per voi ragazzi soprattutto sugli indicatori perché ai diciassette obiettivi e centosessantanove target chiaramente corrispondono altre tanti in realtà molto molti di più indicatori quindi la misura è fondamentale quindi se dobbiamo riassumere in poco che cos'è l'agenda dello sviluppo sostenibile sono chiaramente diciassette obiettivi e relativi centosessantanove target che a livello internazionale i governi si hanno eh si sono presi l'impegno di raggiungere entro il duemila attenta loro per tutti noi quindi tutti noi in realtà siamo chiamati comunque a contribuire a questo percorso e a questo a questo passaggio e in che stato eh qual è lo stato diciamo di questo di questo percorso di questa eh di questo traguardo che dobbiamo raggiungere da qui a pochi anni beh io adesso vi faccio vedere una figura che sembra forza quattro un po' esplosa o estesa eh in realtà questa è la situazione a livello europeo quindi come vedete chiaramente qui si può intuire dai colori arancio eh diciamo rosso verde che giallo che insomma la situazione di verdi non ne vediamo tanti vediamo addirittura qualche grigio quindi qualcuno non neanche riporta quello che sta facendo in termini di contributo e insomma eh la situazione forse sarebbe potuta essere migliore nello specifico sulla sinistra eh se riuscite a vederlo ci sono i tre obiettivi i due obiettivi che noi dobbiamo e di cui ci occupiamo oggi quindi l'obiettivo tre l'obiettivo quattro e proprio in fondo per le colonne per quattro vedete l'Italia e l'Unione europea l'Italia allineata diciamo a quello che avviene in media dell'Unione europea quindi un obiettivo quattro stabile ma che è maricione quindi potrebbe migliorare sicuramente se forse meglio per quanto riguarda l'obiettivo tre per il benessere in crescita un po' come anche le grandi diciamo economie europee se confrontate velocemente eh con l'occhio andate a cercare Francia e Germania effettivamente siamo diciamo allineati all'Unione europea bene beh insomma non è che l'Unione europea si sta comportando benissimo quindi si potrebbe fare molti molto di più sia loro ma sicuramente anche noi vediamo come quindi adesso entriamo fondamentalmente nel vedere i due obiettivi e adesso vi riporterò anche dei dati la cosa importante che ci tengo è visto anche il poco tempo a disposizione scorrerò velocemente i due obiettivi e i loro target ehm e poi vi farò vedere alcuni dati presi da fonti ufficiali quello che proverò a fare chiaramente non è entrare nel dettaglio di ciascuno dei target perché appunto non è non è il caso però è di dare una metodologia se me lo permettete nel senso una sorta di modus operandi che dovrebbe poi da voi essere ripresa per quanto riguarda la redazione del diario quindi la prima cosa che voi dovrete fare è andare a scaricare no le schede dei suoi obiettivi e cominciare a studiarle poi approfondirle discutere in classe quando scaricherete la scheda chiaramente eh oltre alla scheda potete anche usufruire delle fonti ufficiali in primis quella chiaramente delle Nazioni Unite dove potete trovare un sacco di informazioni dati anche infografiche come quella che avete qui sulla vostra destra quindi salute e benessere fondamentalmente fa riferimento a che cosa o a quali target beh lo vedete anche semplicemente guardando le immagini quindi vedete una mamma vedete chiaramente dei bambini e delle vaccinazioni eh e chiaramente riguarda la salute e il benessere di tutta la popolazione quali sono i sotto obiettivi quindi fondamentalmente quelle aree che all'interno di questo gol noi dovremmo andare a almeno una eh individuare per poter approfondire e studiare come vedete l'obiettivo assicurare la salute del benessere per tutte e tutte le età fa riferimento a ridurre il tasso di mortalità materna globale piuttosto pure fine alle morti prevenibili di non nati e bambini sotto i cinque anni di età mentre sempre venti e trenta pure fine alle epidemie come per esempio l'ais la tubercolosi la malaria oppure ridurre un terzo la mortalità prematura oppure rafforzare la prevenzione e trattamento di abuso di sostanze oppure e ancora dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali e ancora garantire l'accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale riproduttiva e ancora una coperta conseguire una copertura sanitaria universale per tutti oltre a questi solitamente in ogni obiettivo gli ultimi punti target fanno riferimento a specifici obiettivi da raggiungersi nei paesi in via di sviluppo quindi anche da questo si vede proprio il cambiamento rispetto a precedenti obiettivi del millennio primi otto obiettivi come vedete sono tante le aree che devono essere coperte a voi non verrà richiesto chiaramente di approfondire per ciascun punto tutti tutti i tardi tu addirittura anche qui andare ad analizzare i vari indicatori quello che però vi viene e vi verrà richiesto è quello come vedete in basso ci sono messo quattro figurine la prima il cerchio diciamo dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile poi fatti domande problemi e eventualmente chiaramente il raggiungimento del della diciamo la soluzione del problema e quindi l'eventuale individuazione di una opportunità questo è un po in realtà la metodologia di cui stavo dicendo prima quindi si parte dalla scheda si parte dal goal dall'obiettivo la si studia si va nel dettaglio dei target quindi si vanno a vedere effettivamente tutte le aree che vengono toccate e cominciamo a chiederci ok ma noi che cosa possiamo fare o che cosa intanto possiamo approfondire beh andiamo a cercare per esempio dei dati ecco i dati dell'istat per quanto riguarda l'obiettivo numero 3 anche qui ci sono tanti dati per esempio il numero dei recessi piuttosto che i numeri sulla mobilità l'incidenza stradale quindi alcuni di questi diciamo target stanno migliorando alcuni sono statici alcuni stanno si stanno stanno peggiorando prendo un dato faccio solo un esempio vuole essere uno spunto nulla di più nel 2022 stabile la quota di persone eccesso di peso ma cremaschi aumenta l'abuso di alcol l'abitudine al fumo questo mi ha colpito perché voi siete giovani probabilmente qualcuno di voi fumerà ma a me capire anche di lavorare con ragazzi stranieri anche più grandi di voi e c'è una cosa che molto spesso riportano loro notano quanto fulmino i ragazzi italiani soprattutto le ragazze quindi questo dato questa esperienza se volete confrontata con un dato mi ha fatto pensare ecco questo è un po l'approccio che dovrete dovreste avere voi quindi osservate la vostra realtà ascoltatela interrogatela e però poi andate a cercare il dato e confrontate il dato con quello che effettivamente avete davanti a voi perché possono venire effettivamente possono sorgere delle domande delle problematiche che magari prima non si vedevano e magari da lì parte appunto anche la ricerca solo di ma chi sta facendo qualcosa o come lo si sta facendo questo è un po vuole essere la metodologia qui nuovamente dall'associazione italiano sullo sviluppo sostenibile ho preso questa infografica che è interessante vi chiedo di spostare l'attenzione sulla parte destra dello schermo dove appunto si parla di persone che dichiarano di fumare per esempio anche qui siamo lontani dagli obiettivi che sono stati dati e le persone anche che praticano attività fisica o meglio che non praticano attività fisica che è molto alta l'italia è uno dei peggiori a questo punto di vista paese a livello europeo perché voglio porre l'attenzione su questo perché una cosa importante degli obiettivi lo sviluppo sostenibile poi le relatività è che non sono e non devono essere presi in maniera verticale uno sconnesso dagli altri ma è tutto collegato la realtà è molto più complessa di quella che molto spesso si riporta e quindi provare anche a cercare partendo da un obiettivo e da un target di capire le potenziali correlazioni anche non solo statistiche ma di buon senso che ci possono essere tra un'area e un'altra quindi è chiaro che se maggior parte dei giovani fuma probabilmente non è perché non svolge attività fisica e quindi quale potrebbe perché questo accade problema ma anche quale potrebbe essere l'opportunità e quindi la soluzione a questo per esempio è stato detto prima la ricerca scientifica o la telemedicina oggi come oggi non è sulla telemedicina che voglio farvi darvi un altro spunto ma magari sono le app voi siete dei giovani la generazione digitalizzata per definizione ed esistono tante app che possono aiutare i giovani e i meno giovani a praticare l'attività sportiva anche in maniera diversa il covid è stato per esempio un esempio quindi come la società cambia e ti porta a cambiare così chiaramente i comportamenti delle persone possono cambiare anche in meglio e anche grazie all'aiuto per esempio della digitalizzazione quindi come vedete siamo partiti da un goal abbiamo cercato di andare a vedere in dettaglio di che cosa quali aree effettivamente copra quel goal siamo andati a cercare dei dati per almeno un'area di quel goal e eventuali problematiche dirette e indirette che a questo possono essere collegate e quindi abbiamo provato anche a cercare di capire quali potrebbero essere opportunità o soluzioni già in essere in atto che potrebbero partire questo è quello che voi dovrete fare nel diario quindi chiaramente scaricare la scheda studiarla andare alle fonti come per esempio l'associazione italiana sviluppo sostenibile piuttosto il sito delle nazioni unite piuttosto che il sito dell'istat o di altre importanti istituzioni cercare i dati confrontarli con la realtà porvi delle domande andare a cercare anche le soluzioni che in questo momento sono sono in atto vediamo adesso velocemente l'obiettivo numero numero 4 un po come abbiamo visto prima quindi stessa metodologia come se fosse un esercizio lo andiamo un attimo a ripetere quindi si parte dall'obiettivo numero 4 che riguarda la qualità dell'educazione anche qui una semplice infografica presa dal sito degli obiettivi dello sviluppo sostenibile vi fa capire che chiaramente questo riguarda gli studenti ma non solo studenti della vostra età in realtà riguarda tutti compresi la formazione di tutti comprese dai bambini più piccoli agli adulti quindi coloro che sono in diciamo in età lavorativa e chiaramente anche qui ci saranno dei dati da andare ad analizzare vediamo quali sono i target e quindi le aree che all'interno di questo gol potrebbero essere interessanti per voi assicurare che tutti i ragazzi e le ragazze completino un'istruzione primaria secondaria libera e equa di qualità assicurare che tutte le ragazze e ragazzi abbiano accesso a uno sviluppo infantile precoce di qualità garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini ad una istruzione a costi accessibili e di qualità aumentare sostanzialmente il numero di giovani adulti che abbiano le competenze necessarie incluse le competenze tecniche professionali per l'occupazione lavori dignitosi ma anche la capacità imprenditoriale oppure assicurare la parità di genere l'istruzione garantire la parità di accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione assicurare sempre entro il 2030 che tutti i giovani una parte sostanziale di adulti uomini e donne raggiungano l'alfabetizzazione l'abilità di calcolo famose stemme assicurare che tutti i discendenti acquisiscano le conoscenze le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile che è cosa che oggi stiamo facendo insieme e poi obiettivi chiaramente sempre più rivolti ai paesi in via di sviluppo questi come vedete l'obiettivo 4 ha come l'obiettivo 3 come tutti quegli altri obiettivi ha al suo interno alcune aree che ci chiede diciamo l'obiettivo a cui l'obiettivo ci rimanda e ci chiede di guardare con molta attenzione non dobbiamo guardare tutte dobbiamo sceglierne una massimo due e sulla base di quello dobbiamo cercare di diciamo utilizzare la metodologia che ci siamo dati prima quindi scaricare la scheda approfondi studiarla approfondirla in classe con l'insegnante e successivamente una volta fatto questo andare a cercare i dati i dati normalmente in questo caso prese sempre dal rapporto dell'istat per quanto riguarda l'obiettivo numero 4 abbiamo che l'italia ancora lontana dai target europei per i servizi per la prima infanzia questo chiaramente è un dato negativo che dovrà essere migliorato sulla destra l'italia è lontana dall'europa anche per il numero di giovani con un tiro di studio terziario anche qui siamo molto bassi oppure nel 2022 il famoso drop out che è un problema della scuola italiana l'11,5 per cento dei ragazzi tra 18 e 24 anni è uscito dal sistema di istruzione e formazione questi sono i fatti confrontati con la realtà nuovamente che avete intorno a scuola nella comunità che cosa si può vedere come la possiamo leggere nuovamente questa infografica presa sempre dal sito dell'associazione italiana per lo sviluppo sostenibile per esempio si possono vedere alcuni alcuni dati si diceva sulla sinistra la dispezione scolastica dal siamo nell'area adesso di destra c'è il numero di laureati che è molto più basso rispetto per esempio all'obiettivo europeo del 50 per cento quindi 27 4.50 per cento così come le competenze numeriche non adeguate perché la scuola primaria di secondo grado come vedete meno del 50 per cento risponde a tali requisiti quindi chiaramente ci sono delle problematiche come si possono risolvere queste problematiche chi sta facendo qualcosa come lo sta facendo e soprattutto quali risultati che sta ottenendo perché come vedete alla fine tutto finisce permettetemi questa semplificazione in numeri ma i numeri sono fondamentali per raccontare quello che si fa in una maniera se volete standardizzata così che altri possano capire effettivamente quanto di buono stiamo facendo per cercare di migliorarsi per quanto riguarda le opportunità e per esempio quindi andando a vedere quello che sta accadendo nuovamente l'ASBIS riporta alcuni esempi in questo caso è interessante soprattutto un dato cioè che il goal l'obiettivo numero 4 istruzione di qualità assume in italia una posizione centrale quindi la scuola educazione e la formazione quindi non solo di chi è in età scolastica ma anche di chi è in età lavorativa sono per l'italia un obiettivo strategico importante e questo quindi quando poi si legge che nel confronto con gli altri paesi d'italia si colloca in Europa in 6 ultima posizione beh questo chiaramente sfide un po con quello che diciamo l'obiettivo alto e quindi come potrà essere raggiunto che cosa si può fare per che cosa accade nella vostra realtà quale buona pratica si potrebbe in questo caso riportare questi quindi sono diciamo questa è la metodologia che dovrete seguire quest'ultima slide come anticipato prima è forse più per gli insegnanti che per voi ragazzi però è fondamentale le soluzioni che voi andrete a raccontare nel diario dovranno non solo essere raccontate siamo in termini creativi chiaramente su questo siete bravissimi ma dovete riportare i numeri perché non basta dire che sono bravo bisogna dimostrare quanto sembra sulla base di indicatori che vengono chiaramente sono stati confrontati e poi soprattutto adottati a livello per lo meno diciamo della comunità nella quale si lavora si possono anche proporre degli indicatori nuovi perché no però chiaramente bisogna cercare di utilizzare sempre fondi e indicatori ufficiali questo perché altrimenti si rischia quello che poi per le imprese diventa come si dice greenwashing ci raccontiamo quanto siamo bravi però nessuno può effettivamente verificare che lo siamo insomma siete a scuola quindi sapete un voto che cos'è non vuole essere un voto ma vuole essere semplicemente un modo per raccontare come si migliora nel tempo in termini di impatto quindi questo è molto importante ricordatevi nel diario di riportare anche questo tipo di indicazione siamo in conclusione la cosa importante ed è fondamentale soprattutto come vedete nella figura in basso a destra della copp 28 ed è emerso voi giovani siete il futuro una frase che avrete sentito tanto però in realtà gli adulti vi hanno messo al centro in realtà di questo percorso e quindi oltre che essere dei buoni osservatori in questa diciamo in questa iniziativa sfruttate questa iniziativa magari per essere propositivi cioè selezionate e motivate perché avete scelto certe attività nelle quali magari poi siete direttamente coinvolti e questo sarebbe ancora più bello da poter leggere e chiaramente condividere il futuro è vostro ma perché il mondo è giovane se considerate l'età media in italia e 12 punti più alta quindi l'italia 12 punti più vecchia della media europea che la media 32 noi siamo sopra i 40 anni ma paesi come il del futuro che saranno l'africa e l'india hanno 10 punti in meno rispetto alla media europea quindi chiaramente a voi il compito l'onore e l'onore chiaramente di mostrare qual è la via migliore per raggiungere questi obiettivi detto questo oggi solo il primo del appuntamento ne avremo altri due oggi col dottor mazzini i prossimi diciannove marzo col dottor aldeghe il 16 aprile col dottor melotti parleremo di altri obiettivi qui li vedete 5 il 10 11 e 16 quindi dalla parità di genere fino alla giustizia e pace e quindi personalmente vi aspetto per discutere in dettaglio secondo lo stesso metodo i prossimi obiettivi in questi appuntamenti detto questo vi ringrazio stato veramente un piacere poter essere con voi sono a disposizione se ci sono domande e aspetto un attimo vania se no se abbiamo anche cinque minuti mi piacerebbe io poter fare una domanda al dottor mazzini se fosse possibile va bene allora dottore tanto grazie veramente anche della presentazione io ho provato un attimo diciamo a mettere all'interno una struttura i vari obiettivi però io credo che la cosa importante concreta poi alla fine per questi ragazzi veramente vedere che cosa si fa di concreto lei ce l'ha già mostrato però le chiedo se c'è di delle iniziative che ha fatto o anche semplicemente di come di come lei ha visto queste iniziative crescere evolversi e come vengono accettate credo dal territorio sia sia importante io penso se c'è una cosa oggi ancora uno dei messaggi deve passare credo oggi è che veramente siamo tutti parte di questo processo di cambiamento la banca è uno dei soggetti soprattutto in un mondo che magari la banca è vista in maniera diversa perché ci sono degli stereotipi rispetto a questo effettivamente lei che ha partecipato tanto insomma nella vita della banca come è cambiata e come oggi i giovani possono avvicinarsi a una banca che può essere a questo punto partner del cambiamento grazie innanzitutto professore anch'io l'ho seguito a un grande attenzione e da buon professore è stato bravissimo nel nel calare a terra dei concetti che possono apparire complessi in maniera molto semplice perché poi come dicevamo prima l'attività legata alla sostenibilità è un'attività che passa dalle azioni concrete del quotidiano di ciascuno di noi no nel piccolo nell'attività concreta e sì è vero la banca sembra anche lei molto distante no come i goals che sembrano molto alti anche la banca sembra un'attività finanziaria molto distante però operando sui singoli territori a contatto con le comunità riusciamo invece a incidere eh molto sul nei progetti concreti quando noi abbiamo parlato del goal 3 e del goal 4 eh a me venivano in mente eh delle iniziative dei progetti che ho seguito personalmente sui territori e che mi sono rimasti particolarmente impressi no? Eh in particolare eh per quanto riguarda il goal 3 quindi quello che riguarda la salute e il benessere noi siamo intervenuti interveniamo tutti i mesi con a sostegno di vari di vari progetti ma in particolare lo scorso anno ad esempio eh siamo siamo abbiamo sostenuto la fondazione di spensiare o pediatrico Santa Marta a Roma che si trova all'interno del Vaticano e che è una fondazione che si occupa di dare assistenza sanitaria a oltre 500 bambini e famiglie senza distinzione di razza e di religione e diciamo che eh ricomprende un po' quelli che sono i subobiettivi no? Del goal 3 che lei ha eh così bene elencato perché quando si parla di ridurre il tasso di mortalità globale o di ridurre la mortalità eh prematura eh questo vuol dire anche un'attività concreta nell'andare a fare diagnosi o assistenza sanitaria preventiva e noi in concreto cosa abbiamo fatto? Abbiamo donato al dispensario pediatrico di Santa Marta un ecografo un ecografo che sarà utilizzato dai volontari eh che medici che operano all'interno della fondazione proprio per raggiungere il sotto obiettivo del goal salute e benessere indicato dall'agenda venti trenta oppure ancora eh a sostegno della ricerca sanitaria della prevenzione eh abbiamo eh sostenuto la fondazione ADMO che è l'associazione per i donatori del midollo osseo proprio nelle sue attività di ehm divulgazione eh soprattutto nella fascia più giovane nei ragazzi dai diciotto e trentacin ai trentacinque anni che poi sono i donatori ideali di midollo osseo e lo abbiamo fatto andando a eh contribuire a eh la realizzazione di una parte della sede di Roma che viene utilizzata proprio per la divulgazione del della della conoscenza sulla necessità di donare il midollo osseo ecco queste sono piccole azioni concrete sul territorio che permettono il raggiungimento del goal tre e dei suoi sotto obiettivi così come nel goal quattro abbiamo già detto siamo sostenitori da anni ad esempio di un progetto che si chiama con merito che viene svolto nelle scuole di Modena e che va a premiare e dare a borse di studio a eh ragazzi che abbiano meno di disponibilità economiche e a ragazze che vogliano intraprendere percorsi STEM quindi di materie scientifiche quindi anche questi sono piccoli contributi che però una banca che opera con la comunità eh localmente sul territorio si sente eh in dovere di fare proprio perché ne è eh diciamo in gioco il futuro delle nostre comunità e eh il raggiungimento di questi obiettivi che non le raggiungiamo per gli altri ma le raggiungiamo per noi stessi questo deve essere ben chiaro a tutti grazie grazie dottor Mazzini anche di questi ultimi esempi quindi proprio sulla base di questi esempi ragazzi io vi invito a seguire un po' il metodo che ho provato a illustrarvi prima quindi andate sul sito dell'osservatorio scaricate chiaramente le sei schede in questo caso le prime due degli obiettivi del quarto studiatele approfonditamente discutetele con gli insegnanti e come bravi osservatori ma non solo andate nella nelle vostre comunità sul vostro territorio a cercare delle buone pratiche partendo però in questo caso proprio anche dal sito della stessa banca il banco BPM dove potete trovare tutte queste belle iniziative studiatele anche come vengono vi vengono riportate ricordandovi che è importante misurare anche il contributo e diciamo il bene che si sta facendo che non è più fino a se stesso ma vuole essere come diceva dottor Mazzini scalabile quindi sarà come dire un bene che ritornerà a differenti livelli e con ampiezze differenti questa è la cosa anche importante dello sviluppo sostenibile quindi mi raccomando buon lavoro e prima di lasciarvi permettetevi di salutare dottor Mazzini ancora che ringrazio veramente per la testimonianza e la presentazione Vania dell'osservatorio grazie a tutti voi e a voi che avete ascoltato oggi in diretta e per chi ci ascolterà in diciamo differita come dicono quelli della tv noi ci vediamo 19 marzo che è un martedì mattina alle ore 10 con il dottor dal dighi per approfondire i prossimi due obiettivi grazie a tutti buona giornata e buon lavoro grazie grazie a tutti